Mi auguro fortemente che prevalga la nostra idea di Europa, un'Europa che torni alle origini, che entri nel dettaglio della vita quotidiana delle imprese. A dirlo Elisabetta Gardini, deputata di Fratelli d'Italia. Arriviamo con un messaggio forte, perché vogliamo cambiare l'Europa così come stiamo cambiando l'Italia. L'Italia perché sta cambiando? Perché finalmente, dopo tanti anni, è governata da persone che sono state scelte dai cittadini. E questa è la cosa che ci distingue, che ci riempie d'orgoglio e che ci fa pensare che quello che abbiamo fatto in Italia possa essere fatto in Europa. Un'Europa che in questo momento è molto lontana dalla realtà, che vive chiusa con i suoi modelli matematici, senza confronto diretto con il mondo delle imprese, con il mondo della pesca, con il mondo dell'agricoltura. Una tornata elettorale che per i meloniani potrebbe rivelarsi un crocevia decisivo anche come risposta alle accuse di ideologismo estremo. A me personalmente viene un po' da ridere, perché io sono un po' avanti negli anni e quindi ricordo quando negli anni 70 davano dei fascisti ai democristiani, poi è stata la volta dei forzisti, anche Berlusconi, poi siamo arrivati noi e quindi c'è nulla di diverso. C'è una costante per la sinistra e fascista tutto quello che non è di sinistra ma che è abbastanza numericamente consistente da poter minacciare il suo predominio e la sua vittoria elettorale.